Vi ringrazio di questo invito. Mi sono sentita un po' intimorita quando mi avete proposto di intervenire su questo tema con una meditazione. Poi ci ho pensato e mi è venuto in mente questo percorso in tre passaggi che condivido con voi. I tre passaggi, il primo molto veloce sull'etimologia e la semantica del termine lavoro, il secondo su alcuni spunti sul lavoro che vengono dalle scritture e poi da Papa Francesco e il terzo, quello un po' più ampio come capitoletto del mio intervento di oggi, è invece una prospettiva socio-antropologica che cerchi di adottare uno sguardo integrale. Allora parto dall'etimologia perché tutti quando c'è un tema da discutere vanno su Google e vedono cosa c'è. Io quando c'è una questione vado sul dizionario etimologico perché credo che tornare alla radice delle parole sia qualcosa che ci fa molto bene perché le nostre parole si usurano, diventano degli slogan, si incrostano di luoghi comuni. E ritornare alla radice ci aiuta a ripulire un po' il nostro sguardo. La radice di lavoro è lab che indica letteralmente il movimento di afferrare qualcosa, quindi di possedere, di controllare. In modo figurato indica il desiderio o l'opera verso qualcosa, cioè intraprendere ma anche ottenere qualche cosa, quindi ha una dimensione fattiva, una capacità realizzativa, trasformativa e creativa. In questa radice, in questa parola lavoro, se guardiamo la parola nelle diverse accezioni, nelle diverse lingue, da una parte c'è labor che è anche la stessa parola di fatica. Quindi c'è questa dimensione di sforzo, di impegno fisico. E dall'altra, in francese, travail è anche il travaglio del parto, che è sicuramente una fatica, e posso dirlo da mamma che ha partorito cinque figli, ma è anche una fatica, come dire, che fa nascere qualcosa di nuovo, che non c'era prima, che consente a qualcosa di nuovo di venire al mondo. E Papa Francesco dice, il travaglio del parto è orientato alla vita e pieno di speranza. Quindi questo mettere al mondo qualcosa pur con fatica, sono due dimensioni in qualche modo indistinguibili, inseparabili. C'è un paio di versi di Gibran, l'autore del profeta, sul lavoro, che secondo me esprimono in maniera molto bella questa commissione inestricabile tra fatica e messa al mondo di qualcosa. Ma io vi dico che quando lavorate, realizzate una parte del sogno più remoto della terra, a voi assegnata quando quel sogno nacque. Ed è nel mantenervi con fatica che voi in verità amate la vita. E amare la vita attraverso la fatica significa essere molto prossimi al suo segreto più profondo. Ecco, c'è questa proprio entrare in questo movimento vitale che è fatto di fatica, di travaglio, ma anche di messa al mondo, che ci aiuta a comprendere il mistero della vita. Quindi nell'etimologia c'è già una densità semantica che ci aiuta un po' a iniziare questo percorso. Il secondo capitoletto di questa piccola meditazione riguarda le scritture, partendo però da quello che Papa Francesco dice della fatica in Evangelii Gaudium, al numero 96, quando dice ogni lavoro è sudore della nostra fronte. Quindi questa dimensione è proprio di ingaggio con la realtà che è impegnativo, ma che è anche fecondo. Nella Genesi si parla del mandato consegnato all'uomo di coltivare e custodire la terra. In Laudato Si al numero 67 Papa Francesco dice mentre coltivare significa arare o lavorare un terreno, custodire vuol dire proteggere, curare, preservare, conservare, vigilare. Ecco coltivare e custodire sono due movimenti che esigono di rimanere in tensione tra loro, perché coltivare senza custodire significa sfruttare, significa approfittare, significa depauperare la terra che ci è stata consegnata, mentre custodire senza coltivare significa un immobilismo, significa non prendere sul serio il compito che ci è stato dato di portare a compimento l'opera della creazione. Allora è nella loro tensione polare, come direbbe Romano Guardini, che questi due movimenti esprimono nella maniera più profonda e più feconda il significato del termine lavoro, un termine a cui io vorrei associare quattro significati legati appunto al Magistero di Papa Francesco. Il primo è la dignità, ovviamente l'avete menzionato, Papa Francesco dice che il lavoro unge l'uomo di dignità e la dignità non è semplicemente il cavarsela, il non soccombere, ma è anche l'essere messi in condizioni di aiutare altri, quindi non è semplicemente sfamare qualcuno, ma dare a qualcuno la possibilità di sfamare per esempio la sua famiglia, questo Papa Francesco lo dice, quindi il lavoro unge l'uomo di dignità e la donna naturalmente, quando diciamo io non sono per il linguaggio politically correct, quando dico uomo intendo essere umano, maschi e femmine li creo. Quindi la dignità è il primo aspetto del lavoro. Il secondo aspetto molto importante è l'identità. Quando noi compiliamo un documento c'è nome, cognome, data, luogo di nascita, professione, cioè il lavoro è ciò che ci definisce, subito dopo le coordinate spazio-temporali viene il lavoro e Giuseppe era di Nazareth ed era falegname e Gesù figlio di Giuseppe di Nazareth era falegname con il padre fino all'età di 33 anni o quando si è messo in cammino. Quindi questo tema dell'identità è fondamentale perché il lavoro ci definisce, ma non ci definisce dal di fuori, ci definisce perché è l'ambito grazie al quale noi diventiamo chi siamo, noi entriamo in un percorso concreto di formazione di noi stessi in relazione con il mondo, con la materia e con gli altri che ci aiuta a diventare chi siamo. Per questo è così importante. Giovanni Paolo II nella Laborem Exercances diceva che il lavoro è uno dei tratti che caratterizza l'essere umano. Il lavoro porta su di sé un particolare segno dell'uomo e dell'umanità, il segno di una persona operante in una comunità di persone e questo segno determina la sua qualifica interiore e costituisce in un certo senso la sua stessa natura. Quindi operare in una comunità di persone. Dignità, identità, una terza dimensione del lavoro è il riconoscimento. Anche i lavori più umili sono necessari, ma non sempre noi riconosciamo adeguatamente come elementi che contribuiscono al benessere collettivo chi svolge questi lavori. Padre Turoldo parlava di alcuni lavoratori come rottami del sontuoso mondo che sappiamo. Molta umanità di scarto in realtà fa parte di questi lavoratori, dei lavori umili, dei lavori in nero, dei lavori che nessuno vuole fare. C'è un breve verso di Gianni Rodari che dice così Dalla città che ho costruito non so perché sono stato bandito. Ho lavorato per tutti. Perché nessuno ha lavorato per me? Ecco, questa idea che c'è una parte dell'umanità che deve servire l'altra parte e che l'altra parte poi non riconosce nemmeno, con cui l'altra parte non entra in un dialogo di riconoscimento reciproco. Ecco, troppa è questa umanità di scarto. Persone sottopagate, persone che lavorano in nero, persone sfruttate, persone di cui si dispone del tempo dicendo tanto se tu non vuoi fare questa cosa qualcun altro c'è la fila fuori di chi è disposto a farla anche per meno e così via. Ecco, il riconoscimento è questa reciprocità dove non siamo tutti uguali, ma nella nostra diversità abbiamo il dovere di riconoscerci reciprocamente, di sentirci gli uni responsabili degli altri e gli uni grati agli altri. Un'altra dimensione del lavoro è il pensiero, cioè lavorare non è solo fare, ma è anche pensare. Papa Francesco parla appunto di Gesù che lavorava con le sue mani, in Laudatosi al 96. Gesù lavorava con le sue mani prendendo contatto quotidiano con la materia creata da Dio, per darle forma con la sua abilità di artigiano. Allora, lavorare con le mani e anche pensare con le mani, è anche un esercitare il pensiero in un dialogo con la concretezza che fa resistenza, ma che è anche in qualche modo uno specchio che riflette qualcosa di molto più grande. E quindi così come, non so, scrivere con la penna aiuta a pensare in un certo modo, diverso dal modo in cui si pensa battendo su una tastiera, così lavorare con le mani, lavorare con la materia e creare artigianalmente qualche cosa, quindi dare forma alla materia è un gesto che anche educa il nostro modo di pensare, lo educa alla pazienza, all'attesa, all'immaginazione, alla forma come causa finale che ci aiuta a dare appunto, a plasmare la materia. E una quarta dimensione del lavoro, così come lo corrigo nei documenti del Magistero, è che lavorare non serve solo per sopravvivere, per riempire la pancia, per non morire di fame, ma serve per vivere. Cioè non è solo sussistenza, ma è esistenza. E in Evangelio Gaudium al 192 Papa Francesco dice che desideriamo molto di più della sopravvivenza, che il nostro sogno vola molto più in alto e da queste quattro qualificazioni del lavoro, che poi sono state anche riprese dalle settimane sociali e che sono veramente un programma di così, di rigenerazione del lavoro, che deve essere libero, creativo, partecipativo e solidale. Perché in questo modo l'essere umano esprime, accresce la libertà e la degnità della propria vita. Cosa vuol dire libero? Libero vuol dire che non deve essere alienato, che non possiamo possedere le persone e trattarle come schiavi. Il lavoro deve essere strumento di speranza e di vita nuova, non di alienazione. Creativo, perché il lavoro è un fare, è una poesis, che però è anche un fare poetico, è un fare che mettendo al mondo qualcosa racconta anche qualcosa del mondo e fa esistere un nuovo sguardo, una nuova possibilità anche di conoscenza e di relazione. Partecipativo, perché il lavoro presuppone e valorizza una logica relazionale. Lavorando siamo in relazione tra di noi, siamo in relazione con degli strumenti, siamo in relazione con la materia, siamo in relazione con il mondo. E quindi questa relazionalità che caratterizza il nostro esserci nel mondo, Papa Francesco dice che tutto è connesso, si esprime, trova una concretezza, una realizzazione nel lavoro. E poi è solidale, è solidale perché il lavoro serve appunto a portare dignità, serve a rendere le persone capaci di contribuire insieme al bene comune. La libertà è questa libertà che noi chiamiamo generativa, non di prendere qualcosa, di consumare delle opzioni, ma di portare qualcosa, cioè di contribuire con altri e per altri al bene comune. E questo era, diciamo, il secondo capitoletto, il secondo passaggio per le suggestioni che mi sono sentita così di sottolineare e di condividere con voi. Il terzo passaggio invece è quello che più attiene un po' alla mia prospettiva e formazione, come cercare un nuovo modello di sviluppo integrale a partire dal lavoro. E qui c'è una parte critica, perché ciò che il lavoro può essere in realtà non è. Ci sono delle questioni che dobbiamo osservare, criticare, affrontare. E poi c'è una parte invece costruttiva, come fare, come muoverci e che cosa queste riflessioni ci possono aiutare a intravedere come cammino da intraprendere. La critica è quella classica dell'alienazione del lavoro. Quando il lavoro diventa astratto, anziché farci cimentare concretamente quella materia, diventa astratto, cioè diventa ripetitivo. Si perde il senso tra quello che sto facendo e l'insieme e il prodotto finale. Io semplicemente ripeto un gesto meccanico, così meccanico che molto spesso una macchina può sostituirmi e fare il lavoro meglio di me. Ecco, il tema dell'alienazione è un tema che non ha sottolineato soltanto Carlo Marx, ma hanno sottolineato anche delle donne che io amo moltissimo. Anna Arendt e Simone Weil. Ecco, Anna Arendt in vita attiva dice che il lavoro rischia di essere alienato e di alienarci anche quando non lavoriamo, perché questa modalità ripetitiva noi tendiamo poi a riprodurla anche fuori dal contesto lavorativo. Simone Weil scrive che un uomo sarebbe completamente schiavo se ogni suo gesto provenisse da un'origine diversa dal suo pensiero. E questo è quello che accade all'operaio, cioè lo schiavo antico rasentava questa condizione senza raggiungerla. L'operaio moderno la realizza perfettamente. L'individuo vede le condizioni della sua azione trasformarsi in pure costrizioni esterne. E Simone Weil, come sapete, lo dice perché lei stessa ha lavorato come operai in una fabbrica per capire che cosa significa lavorare in quelle condizioni. Anna Arendt, che distingue appunto tra lavoro, opera e azione, dice che il lavoro è la parte appunto più ripetitiva, più meccanica, che non lascia tracce visibili, oggetti duraturi, mentre invece è l'azione che consente di fare esistere qualcosa, e di valorizzare la natura dell'essere umano. E Anna Arendt dice anche un'altra cosa molto interessante, che noi lavoriamo per consumare. Diventiamo dipendenti dal consumo e diventiamo lavoratori che consumano, cioè il consumo diventa un lavoro. Noi consumiamo per rilassarci dal lavoro, ma così facendo continuiamo a lavorare e a produrre profitto per chi poi ci utilizza come forza lavoro. Quindi c'è questo circuito un po' paradossale e disumanizzante, e tra l'altro Anna Arendt usa un'espressione che secondo me è molto calzante rispetto al nostro presente. Siamo lavoratori senza lavoro, il consumatore è un lavoratore senza lavoro, cioè lavora consumando per produrre profitto per chi poi ne beneficia, ma magari senza avere lo stesso lavoro, quindi indebitandosi. Ecco, il consumo come lavoro è qualcosa su cui dobbiamo riflettere più profondamente di quanto abbiamo fatto. Un pensatore che secondo me aiuta moltissimo in questa direzione è Bernard Sigler, che purtroppo è prematuralmente scomparso quest'estate, che dice che siamo una società dipendente dal consumo, addictogenic society, dove il consumo è spinto fino all'estremo limite. Cioè noi pretendiamo di poter consumare tutto, di comprare salute, di comprare perfino la vita, commissionando bambini, affittando uteri, eccetera. Cioè il consumo si è veramente esteso ad ogni sfera dell'esistenza umana, vita compresa. Ma che caratteristica ha il consumo? Ha una caratteristica entropica. Cioè il consumo, quando viene assolutizzato, aumenta la frammentazione, slega le persone, questo è un primo effetto, e le omologa. Diciamo che noi attraverso il consumo esprimiamo noi stessi, ma in realtà consumare ciò che è già stato apparchiato e predisposto e pubblicizzato, è semplicemente omologarsi a modelli a cui ci viene chiesto semplicemente di aderire. E perché il consumo slega? Perché il consumo è basato sulla, dice Stiglera, una cosa secondo me molto vera, sulla infedeltà strutturale. Perché il consumo cresca, 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 noi dobbiamo essere infedeli agli oggetti. E gli oggetti sono pensati proprio per essere abbandonati il più presto possibile e sostituiti con altri. Quindi in realtà il consumo è un grande allenamento all'infedelità, a non riparare ma a buttare, a continuamente cambiare e questo rende liquida, come diceva Bauman, la nostra società. Cioè per essere dei buoni consumatori noi dobbiamo essere disposti a sbarazzarci su, a non affezionarci nemmeno agli oggetti, a non renderli degli intermediari tra noi e altre persone, a non renderli depositari di un sapere, di un saper fare, di un saper utilizzare, ma semplicemente a sostituirli l'uno con l'altro appunto in questa dinamica di obsolescenza strutturale. E il tecnocapitalismo lavora esattamente in questa direzione. Per cui se noi scegliamo come via identitaria, cioè come via di costruzione di noi stessi, quella del consumo in realtà ci alieniamo, in realtà diventiamo, entriamo dentro questo meccanismo che è come quello del criceto che gira sulla ruota. Per questo è necessario avere dei controambienti, cioè è necessario che il consumo non sia assolutizzato, ma che ci siano delle dimensioni altre che ci aiutino a vederne i limiti. Il consumo è importante, è un atto antropologico originario quello di consumare, ma non può essere il nostro modo di rapporto con il mondo, non può essere solo lavoro-consumo, il nostro rapporto con il mondo. Un altro effetto entropico è quello che Bernard Sigler chiama della proletarizzazione, cioè il consumo comporta una perdita di saper fare, cioè noi non sappiamo più riparare una cosa, non sappiamo più come valorizzarla, ma la sostituiamo il più rapidamente possibile, quindi e non sappiamo nemmeno più costruire le cose, non sappiamo nemmeno più cucinare con le materie prime, cioè tutto deve essere consumato già pronto e bruciato il più velocemente possibile. Questa perdita di saper fare implica una perdita di saper vivere, quindi di saper utilizzare gli oggetti appunto come intermediari nelle relazioni, come vie di costruzione di modi di esistenza, anche equilibrati, sostenibili, è una perdita di saper pensare, perché per il discorso del falegname che lavorando in legno pensa, quando noi disimpariamo il saper fare, il misurarci concretamente con la materia, anche il nostro pensiero si inaridisce. E quindi il futuro diventa un divenire automatico, che segue le leggi di causa-effetto, che segue le leggi di produzione e consumo, che segue delle dinamiche prevedibili con gli algoritmi e influenzabili dagli algoritmi. Allora, un futuro, il divenire ha un futuro senza avvenire. Invece, come dice Papa Francesco, il futuro deve essere un avvenire, che vuol dire che è indeducibile, che è inaudito, che la libertà umana introduce una dimensione che non può essere dedotta dalle cause. E Papa Francesco, adesso non mi ricordo dove ho preso questa citazione, dice che il nostro, il nostro Dio è il Dio delle sorprese. Ogni giorno ce ne fa una. Dio che rompe gli schemi. E se noi non abbiamo il coraggio di rompere gli schemi, mai andremo avanti, perché il nostro Dio ci spinge a questo, a essere creativi sul futuro. Allora, rimanere intrappolati nel circuito lavoro-consumo rende il nostro futuro un divenire senza avvenire. Bisogna rompere questo schema. Ma come? E qui passiamo all'ultima parte più, diciamo, construence. Intanto indico tre dimensioni, tre vie, tre direzioni. Una è passare dall'adattamento, cioè dalla sottomissione automatica alle leggi di mercato, all'adozione, cioè alla valorizzazione collettiva di tutto ciò che la società della tecnica ci offre, che è tantissimo. Cioè noi viviamo, abbiamo una ricchezza enorme, delle possibilità straordinarie rispetto alle generazioni che ci hanno preceduto. Però questa valorizzazione non può essere, non può prescindere dalla dimensione collettiva, cioè dal fatto che le possibilità sono inserite, sono utilizzate dentro una rete di relazioni. E sono utilizzate come vie di, dico una parola, poi la spiego, co-individuazione, piuttosto che l'identità, seguendo una serie di filosofi, pensatori, ma anche penso a Jung, allo psicanalista, è più giusto parlare di individuazione, cioè noi continuamente diventiamo chi siamo. L'identità non è un costrutto rigido, statico, definito e difendibile da confini, ma l'identità in realtà è una individuazione continua, cioè noi continuamente diventiamo chi siamo e diventiamo chi siamo in relazione agli altri, in relazione all'ambiente e per chi ci crede in relazione con la dimensione della trascendenza. È processuale la nostra identità e non soltanto gli altri non sono nemici di questa identità, ma gli altri sono la condizione di questo nostro processo, perché noi diventiamo chi siamo in relazione a chi ci ha generati, in relazione alle persone che abbiamo incontrato, a chi ci ha formato, in relazione al luogo, al territorio in cui abitiamo, eccetera, eccetera. È la relazione che ci consente questo processo. Allora, l'adozione delle possibilità, anche tecniche di cui disponiamo, richiede il fatto che questa adozione sia collettiva e diventi una possibilità di co-individuazione, cioè di diventare insieme chi siamo e quindi di fare collettività. Un'altra via possibile, un'altra parola che può evocare un percorso è quella che combatte l'entropia. Stigler la chiama neguentropia, io la chiamo sintropia, cioè questi processi di sfilacciamento e di omologazione vanno contrastati, invece con la ritestitura dei legami e con la differenziazione. Ma questa differenziazione è in qualche modo una conseguenza del fatto che noi reimpariamo a diventare chi siamo con altri e allora le differenze si valorizzano, si esprimono e si valorizzano e si riconoscono reciprocamente. Quindi rimettere al centro la relazione, ma non come un nostro prodotto, non come l'esito della nostra volontà di metterci in relazione, ma come il tessuto che già ci costituisce, che dobbiamo solo riconoscere e valorizzare. E in Laudato Si alla 125 Papa Francesco dice qualsiasi forma di lavoro presuppone un'idea sulla relazione che l'essere umano può e deve stabilire con l'altro da sé. Allora il lavoro è relazione, relazione con gli altri, relazione con la materia, relazione con altro da sé. E recuperando questa dimensione centrale noi possiamo lavorare per appunto rimettere insieme invece che far frammentare il mondo in cui viviamo. E l'altro aspetto che forse è quello più adatto alla meditazione è quello che con Simone Weil chiamo mistica del lavoro. La mistica del lavoro è la capacità di non rimanere inchiodati alla fatica, alla ripetizione, ma la capacità che dobbiamo coltivare quotidianamente di discernere lo straordinario nell'ordinario, di vedere nella materia un riflesso di una luce più grande. C'è una poesia della mia poetessa preferita che è Emily Dickinson che dice Le piccole incombenze della vita svolgo puntualmente come se la più insignificante fosse per me infinita. Ecco, quest'idea che anche gesti apparentemente insignificanti, penso a chi accudisce un anziano in una RSA semplicemente con operazioni di igiene personale. Mi è capitato di parlare con un membro della Fraternità di Gerusalemme e di Parigi che svolge questo lavoro di cura e diceva io in questo modo, lavando gli anziani e vedendo come stanno bene dopo, ringrazio Dio perché vedo la sua opera in questo gesto molto umile e anche molto, anche faticoso da compiere. Quindi, essere capaci di scorgere l'infinito nel finito, questa è la mistica del lavoro. O come dice Simone Weil, rinnovare il patto originario tra l'intelligenza e il mondo, fare apparire nel lavoro ciò che può fondare una spiritualità. Per esempio, quali sono le proprietà riflettenti nella materia, negli strumenti, nei gesti, proprietà che potrebbero fornire all'attenzione di chi lavora degli intermediari capaci di orientare questa attenzione verso il soprannaturale? Non c'è necessità più urgente di una trasformazione delle tecniche volta a orientare l'attenzione verso il soprannaturale. E Papa Francesco, nella Laudato Si al 126, cita San Benedetto e l'idea di Ora et Labora, questa introduzione del lavoro manuale, intriso di senso di spirituale, si rivelò rivoluzionaria. Cioè, è quando noi riconosciamo che c'è dello spirito anche lì, che possiamo veramente fare una rivoluzione. Mentre, nel 127, sempre di Laudato Si, Papa Francesco dice, quando nell'essere umano si perde la capacità di contemplare e di rispettare, si creano le condizioni perché il senso del lavoro venga stravolto. Allora, per coltivare e custodire bisogna contemplare e la contemplazione ci aiuta a mantenere in tensione queste due dimensioni. E chiudo dicendo che ci concentriamo troppo sul rapporto tra produzione e consumo e dobbiamo invece aprirci alla dimensione della generazione e della rigenerazione degli esseri umani. Attraverso la formazione, l'educazione, i contesti di co-individuazione e di contribuzione. Perché gli esseri umani crescono se possono contribuire, non se possono prendere. E questi codici antropologici vanno tenuti insieme. E direi che il codice generativo consente agli altri due di non pervertirsi, di dare il meglio di sé appunto alla produzione e al consumo, che sono due dimensioni comunque importanti. E tutto questo può accadere se rimettiamo al centro questo nucleo relazionale, questo tutto è connesso di Papa Francesco, che sia una affermazione ontologica, perché il mondo è fatto di legami, e sia anche una affermazione museologica. Cioè, se vogliamo capire cosa sta succedendo, se vogliamo capire il mondo, dobbiamo collegare tra di loro tutte queste dimensioni. E questa è un'operazione che per quanto mi riguarda, come, non so come definirmi, intellettuale non mi piace perché sono anche molto concreta, però è una sfida bellissima che ci aspetta. Grazie.